Un cristiano che riceve il dono della fede nel battesimo ma poi non porta avanti questo dono sulla strada del servizio diventa un cristiano senza forza, senza fecondità. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Nel corso dell'omelia il pontefice ha così messo in guardia dalla pigrizia che ci allontana dal servizio e ci porta alla comodità, all'egoismo e dalla tentazione di impadronirsi delle situazioni che trasforma il servizio in una struttura di potere. Di qui l'invito a seguire sempre l'esempio di Gesù che ci parla di servizio in umiltà, un servizio in speranza. Nella vita dobbiamo lottare tanto contro le tentazioni che cercano di allontanarsi di questo atteggiamento del servizio. La pigrizia che porta alla comodità, servizio a mità e l'impadronirsi della situazione e del servo di diventare padrone, che porta alla supervia, all'orgoglio, a trattare male la gente, a sentirsi importante perché sono cristiano, ho la salvezza e tante cose così. che il Signore ci dia queste due grazie grandi. L'umiltà nel servizio a fine di poter dirci siamo servi inutili, ma servi, eh, fino alla fine, e la speranza nella testa della manifestazione quando venga il Signore a trovarci.